amici di trekking time camminatori montanari oggi siamo al monte cucco e vi porto alla scoperta della grotta di monte cucco quindi attraverseremo la grotta alle mie spalle che vedete lì l'attraverseremo qui tra l'altro c'è una bella scuola di deltaplano da qui partono i deltaplani per spiccare il volo quindi gambe e spalla venite con me grotta di monte cucco a 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